C'è ancora l'interesse alla realizzazione di una centrale solare termodinamica prevista a Roccazzelle. Le prime carte vennero trasmesse alla regione ormai dieci anni fa. Il gruppo Reflex Solar Power, tre anni dopo, ottenne il relativo decreto che avrebbe consentito di avviare i lavori. Da allora però non ci furono passi in avanti a Palermo e la Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Territorio Ambiente ha però preso atto di documentazione integrativa presentata dalla società che in sostanza attesta l'interesse di proseguire con il progetto per una centrale da 12 MW elettrici. Con la firma dell'Assessore regionale Salvatore Cordaro è stata disposta una proroga di cinque anni del provvedimento via. I responsabili della società hanno indicato una serie di ragioni tecniche non solo che avrebbero fatto slittare l'avvio vero e proprio della fase operativa del progetto. Tra queste l'approvazione del nuovo piano regolatore generale, oltre al blocco causato dalla pandemia da Covid, l'area di Roccazelle fu scelta perché tra quelle che più interessano aziende del settore intenzionate ad avviare la produzione di energia da fonti come il termodinamico. Le condizioni di raggiamento solare infatti vengono considerate assolutamente idonee ad alimentare anche centrali di notevoli dimensioni. Il progetto però non è mai decollato così come è accaduto ad altri investimenti sul solare in città che ad oggi non hanno mai trovato veri riscontri. In base al provvedimento rilasciato dal Dipartimento Ambiente, la via continuerà ad essere valida per i prossimi cinque anni fino al marzo del 2027. I lavori tra vari slittamenti e richieste inoltrate dalla società sarebbero dovuti partire entro il 2019 in base anche all'autorizzazione unica. Gli uffici regionali hanno dato un'ulteriore chance sul finire dello scorso anno e il TAR Palermo si è pronunciato sul ricorso presentato proprio dalla società che contestava una delle clausole delle autorizzazioni rilasciate dalla regione. La società infatti dovrebbe assicurare opere di pubblica utilità al comune in misura pari al 3% dell'energia annualmente prodotta. Gli imprenditori della Reflex Solar Power hanno appunto considerato illegittima questa disposizione per questa regione. si sono rivolte alla giustizia amministrativa. I giudici del TAR però hanno respinto il ricorso e tra le altre cose nelle motivazioni si sono chiesti se l'azienda avesse ancora interesse a realizzare l'investimento proprio a Roccazzelle.